Gastrite? Gastrite? Ecco come dimenticarla in soli 3 giorni La gastrite è un disturbo legato all'infiammazione dello stomaco e si verifica di solito se si beve troppo alcol o si consumano farmaci, ibuprofene o aspirina. Un'altra delle cause meno conosciute ma più pericolose è il batterio Helicobacter pylori. Per porre un naturale rimedio, in questo articolo vi mostriamo come preparare delle soluzioni di facile preparazione. Rimedi naturali per il trattamento di gastrite. La gastrite è una condizione comune al giorno d'oggi. Tuttavia, come sempre vi suggeriamo di rivolgervi dal medico prima di cominciare qualsiasi tipo di trattamento naturale. Prezzemolo Per curare il sistema digestivo, il tè al prezzemolo è l'ideale, i suoi componenti agiscono come un diuretico aiutando il corpo a disintossicarsi e ridurre il disagio causato dalla gastrite. Acqua di riso Per ottenere l'acqua di riso, dovete cucinare il riso e prima che sia pronto mettere da parte e lasciare raffreddare l'acqua in eccesso. Basta bere l'acqua di riso ogni volta che avvertite sintomi causati dalla gastrite, con questo rimedio si può facilmente sgonfiare lo stomaco. Sedano e carota, liquefare una carota e due coste di sedano in un bicchiere d'acqua, creare un impasto omogeneo e assumerlo durante i pasti. In questo modo stimolerete il processo digestivo e ridurrete bruciore e gonfiore. SONIA Grazie a tutti.